ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video come tutti anch'io sono dispiaciuto per il grande maradona e disegnerò un mio contributo insieme innanzitutto tracciando il volto in questo modo ovviamente disegnerò un maradona ai tempi d'oro ok la box è completa anche se non lo vedete proprio perfettamente e ora inizio a realizzare i particolari del volto con un marker con una punta da 0 4 realizzo i particolari del volto a realizzare i particolari del volto inizio a realizzare il volto inizio a realizzare i particolari del volto inizio a realizzare il volto inizio inizio a realizzazione a realizzare il volto inizio a realizzare il volto inizio